Nuovo direttore generale all'azienda sanitaria di Pesaro, prende servizio Alberto Carelli Tari e aumenti in bolletta, proteste a Pesaro Viabilità a Urbino, arrivano fondi per ripristinare la galleria Cagulino L'800 di Fiorenzuola di Focara riemerge dagli archivi e diventa mostra Lega Pro a Pesaro, la VIS un modello nel dialogo fra calcio e comune Una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV Ben ritrovati allo spazio informativo di Rossini News Il nostro telegiornale che in questa edizione di martedì 30 di aprile Apriamo con la sanità e in particolare con la nomina del nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria di Pesaro e Urbino Dopo le annunciate quanto discusse di missioni di Nadia Storti che andrà in pensione La regione Marche ha conferito l'incarico di numero uno della sanità pesarese ad Alberto Carelli 65enne maceratese che da un anno era direttore amministrativo dell'azienda sanitaria di Fermo Dirigente di lungo corso della sanità regionale, Carelli è stato anche direttore amministrativo di Asur Marche Di Asur Marche e direttore generale dell'area vasta di Fermo Carelli avrà un incarico di 4 anni ed entrerà in servizio da domani Ma già oggi era a Pesaro per un primo sopralluogo all'ospedale di Muraglia Assieme all'assessore regionale all'infrastrutture Francesco Baldelli Sopralluogo su una delle impellenze più pressanti della sanità pesarese A breve spetterà Carelli nominare il nuovo direttore sanitario dopo le dimissioni di Edoardo Berselli Ieri ultimo consiglio comunale a Pesaro per quanto riguarda questa legislatura Consiglio monotematico per la approvazione delle nuove tariffe della Tari per il 2024 Sono previsti degli aumenti e dei rincari che spieghiamo in questo servizio La certezza è che la bolletta della Tari aumenterà Divergenti invece le opinioni in merito a questo rincaro Per l'assessore al bilancio Andrea Nobili si è applicato il minore aumento possibile Che si attesterà per un incremento medio del 4% per le utenze non domestiche E ancora inferiore per quelle domestiche E quanto riferito nell'ultimo consiglio comunale della legislatura Convocato come monotematico per l'approvazione dei ritocchi a questo tributo Un rincaro per Nobili che è stato ridotto al massimo dopo che il 19 aprile Si è svolta l'Assemblea territoriale ed ambito che aveva deliberato l'aumento per i comuni Del 5,6% della liquota Tari sull'onda degli aggiornamenti del piano economico finanziario Che analizza parametri quali caro benzina, inflazione e aumento del costo dei contratti dei dipendenti Per l'opposizione in consiglio comunale resta invece un rincaro non accettabile Su una tariffa già alta, già aumentata in passato e destinata a crescere anche nel 2025 Tant'è che l'approvazione della tariffa Tari 2024 è passata in consiglio comunale Con 10 voti contrari e 20 favorevoli Contrarietà che diventerà manifestazione di protesta il prossimo sabato 4 maggio Quella organizzata a Campo di Marte di Baia Flaminia Dalla lista civica Vieni Oltre in corso elettorale per le amministrative di Pesaro L'approvazione delle tariffe arriva a pochi giorni dall'ufficializzazione della destinazione del fondo anticrisi Da 300.000 euro proprio a sostegno del pagamento della Tari a beneficio delle famiglie in difficoltà Potranno farne richiesta le famiglie con ISEE inferiore ai 16.000 euro Che saranno in regola con il pagamento delle prime due rate con scadenza 16 giugno e 16 agosto Per queste famiglie il comune si farà poi carico della terza e quarta rata Continuano le indagini della Procura della Repubblica di Pesaro In merito all'utilizzo di sostanze sofisticanti su latte e derivati Nello stabilimento fattorie marchigiane di Colli al Metauro riconducibile al gruppo Copperlat Indagini a carico di 9 persone e 3 società sui quali si sta indagando in merito Si sta indagando in merito al sospetto di manipolazione con soda caustica Per fermare il processo di acidificazione I controlli finora non hanno rilevato anomalie sui prodotti messi sul mercato Ma a breve si passerà all'indagine dei contenuti che emergeranno dai telefoni cellulari sequestrati Arrivano novità per la viabilità di Urbino In merito alla Galleria Cagulino Teatro di un'immane tragedia stradale a fine dicembre E' tuttora riaperto in un solo senso di marcia Anche voi telespettatori di Rossini TV ci avete più volte chiesto lumi Sul ripristino completo di questa infrastruttura che potrà dare concreto respiro alla viabilità del territorio Ora arrivano importanti stanziamenti che vanno proprio in questa direzione La viabilità di Urbino intravede prospettive di respiro Dopo i due mesi e mezzo di chiusura della Galleria Cagulino E la successiva riapertura parziale in un solo senso di marcia in direzione Fermignano Attivata dallo scorso 6 marzo Sono infatti in arrivo fondi per 4 milioni e mezzo di euro Inseriti in un piano da 50 milioni da parte di ANAS Per la manutenzione straordinaria delle strade della nostra provincia Ad annunciare lo stanziamento è l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli Che ha visto da ANAS le risposte che si auspicavano Risposte alle sollecitazioni di una viabilità territoriale in difficoltà Che tende a congestionare di traffico la vecchia strada delle Conce La Galleria Cagulino fu infatti teatro della straziante tragedia stradale del 27 dicembre In cui all'interno del tunnel morirono i quattro componenti di un'ambulanza Proveniente da Fossombrone Che si scontrò con un pullman di giovanissimi in gita proveniente dalla Scolano A perdere la vita furono i soccorritori sanitari Cinzia Mariotti, Socoloxa, Stefano Sabatini E il paziente a bordo Alberto Serfilippi Illesi i componenti del pullman L'incidente causò un vasto incendio che danneggiò in maniera radicale la galleria ANAS è intervenuta in tempi celeri per ripristinare almeno un senso di marcia Ora invece la programmazione di una progettazione di ripristino completo Può costruirsi su questi 4 milioni e mezzo di stanziamento Il programma di investimenti prevede il rifacimento degli impianti di illuminazione e ventilazione Distrutti dall'incendio Dispositivi imprescindibili per rimettere a norma il doppio senso di marcia I tempi di progettazione non consentiranno però di avviare il cantiere prima di fine 2024 Dagli investimenti di ANAS sulle strade a quelli della provincia Con 47 milioni di lavori già realizzati o appaltati per viabilità o scuole E quanto emerso dal rendiconto 2023 dell'ente approvato dal Consiglio provinciale Secondo il direttore della provincia Domenicucci per l'edilizia scolastica Sono stati destinati fondi per quasi 24 milioni Mentre su strade viabilità la cifra ammonta a 23 milioni e 200 mila euro Nel complesso fino al 2025 la provincia impegnerà 64 milioni e 600 mila euro Su 19 operazioni riguardanti l'edilizia scolastica Il consuntivo si chiude con un avanzo di 15 milioni Che include 8 milioni di accantonamenti e 4 milioni e 775 mila euro di fondi vincolati Il parlamentare Antonio Baldelli ha fatto visita al carcere di Fossombrone Confermando l'impegno del governo per la struttura penitenziaria Che riceverà un finanziamento di 700 mila euro per attivare 81 nuovi posti detentivi Un rafforzamento della struttura che si gioverà anche dell'inserimento Di ulteriori 18 agenti di polizia penitenziaria Verrà ufficialmente suggellato a breve un patto di amicizia Tra i comuni di Isola del Piano e di Gabicce Mare Lo annunciano i due sindaci Giuseppe Paolini e Domenico Pascuzzi Sulla base di una ricerca storica che ha mostrato come negli anni 70 Dalle campagne proprio di Isola del Piano si sia verificato un importante esito migratorio Verso il territorio gabiccese creando un rapporto identitario unico Che sarà presto oggetto di nuovi progetti comuni Sarà Gianrico Carofiglio uno degli scrittori più amati della letteratura contemporanea Il prossimo ospite della rassegna Incontri Capitale Autore di libri best seller tradotti in tutto il mondo e giallista italiano Tra i più seguiti di sempre Carofiglio sarà a Pesaro venerdì 3 maggio alle 18.30 Al teatro sperimentale per presentare il suo ultimo romanzo L'orizzonte della notte in dialogo con la scrittrice e critica letteraria Giulia Ciarrapica L'800 di Fiorenzuola di Focara rivive in una mostra che accompagnerà il borgo del San Bartolo fino alla fine di settembre Vediamo Documenti inediti emergono dal riordino del fondo archivistico di Fiorenzuola di Focara E danno vita ad una mostra documentaria immersiva nello stesso borgo del San Bartolo Inaugura sabato 4 maggio alle 17.00 Fiorenzuola si racconta l'Ottocento svelato Un lavoro a più mani coordinato da Biblioteca Oliveriana e quartiere 6 del San Bartolo Che fino a fine settembre racconterà la vita comunitaria del XIX secolo di Fiorenzuola Grazie all'impegno degli studenti del Liceo Mengaroni di Pesaro e Isia di Urbino E all'associazione Le Voci dei Libri È una ricerca d'archivio cominciata nell'agosto-settembre dello scorso anno Ha visto tante professionalità impegnate nella lettura di questi documenti Nella loro rappresentazione grafica Nella loro trascrizione e interpretazione vocale Quello che abbiamo voluto fare in questo progetto Fiorenzuola si racconta l'Ottocento svelato È un'emmersione totale dell'archivio dell'Ottocento Della loro comune di Fiorenzuola Un viaggio immersivo totale Un open space Dove grafici d'autore realizzati dagli studenti Delle Università Isia di Urbino Si sposano e si associano con contenuti multimediali In particolare con i contenuti audio Un percorso nella storia Reso attuale da disegni moderni Ma riconducibili a un contesto storico Particolarmente interessante Anche della storia italiana E della storia di Fiorenzuola di Focara Abbiamo voluto con questo progetto Valorizzare il senso della comunità Una comunità e un senso di partecipazione Molto presente in tutti gli atti pubblici Che abbiamo trovato in questo archivio del XIX secolo Grazie a una sinergia tra tante istituzioni E soprattutto grazie anche a un bando regionale Finalizzato alla riscoperta e all'inventariazione degli archivi comunali Siamo riusciti appunto a lavorare su questa importante E anche consistente documentazione archivistica inedita E così abbiamo tirato fuori una buona parte Della storia del comune soppresso di Fiorenzuola E l'esposizione appunto vuole raccontare Quella che era la vita quotidiana Le relazioni anche interpersonali I personaggi anche più interessanti E anche un po' fuori dalle righe Della città, del comune di Fiorenzuola E lo farà in una maniera così molto interattiva Grazie anche appunto alla collaborazione Con gli studenti dell'ISIA Le voci dei libri che leggeranno i documenti E quindi sarà una bella passeggiata Perché tutta l'esposizione si svolge all'aperto Sarà una bella passeggiata anche per scoprire il borgo di Fiorenzuola Pesaro e la sua squadra di calcio La Vispesero ritenute un modello dalla Lega Pro Per il proficuo dialogo tra società calcistica e amministrazione comunale Va in questo senso il progetto City Club Concretizzatosi oggi in municipio La Serie C sceglie Pesero E la gestione della Vispesero Come esempio modello di una strategia virtuosa Nel panorama della terza serie calcistica nazionale Il progetto City Club Organizzato dalla stessa Lega Pro e da Procalos E infatizza infatti il proficuo rapporto di dialogo Che può intercorrere fra una società sportiva E l'amministrazione comunale di riferimento Dalla crescita del club Fino alle strutture che lo sostengono Nella sala del Consiglio Comunale Gli stessi vertici della Lega Pro Hanno infatti apparecchiato oggi una giornata D'approfondimento in cui indagare le strade corrette da percorrere Dal modello Vis al focus sul Sassuolo Relazionati da esponenti della società e del Comune Emiliano Fino ad esempi virtuosi che arrivano da Genova o Torino Probabilmente Pesero è il luogo ideale Dove cominciare questo che noi ci auguriamo È un percorso che dovrà riguardare E coinvolgere proprio il rapporto Tra le società della nostra categoria La Lega Pro e i comuni E le amministrazioni locali Non abbiamo casualmente scelto Pesero L'abbiamo fatto perché qui c'è una realtà Intanto importante e consolidata Della Vis Pesero Con una proprietà secondo me illuminata E molto attenta come quella di Mauro Bosco Anche proprio al tema dell'impiantistica C'è un comune che ha dato Dal sindaco a tutto il gruppo del comune Un'attenzione importante anche allo sviluppo E al tema dello sport Dico che in Italia Noi abbiamo quasi 600 mila partite all'anno di calcio E quindi abbiamo un movimento straordinario Non sempre è rapportato il movimento Alla casa in cui il movimento viene sviluppato Quindi mi riferisco agli impianti Spesso sono datati Sono quasi tutti proprietà pubbliche In questo non c'è nulla di male Però non sempre il rapporto Tra la parte pubblica L'amministrazione pubblica E quella della parte sportiva Funziona bene Ripeto anche in questo senso Pesero è un po' una felice eccezione Che c'è un ottimo rapporto anche tra la società e l'amministrazione Quindi abbiamo scelto volutamente Pesero È una giornata importante Incominciamo questo percorso Per cercare di sensibilizzare su un tema Che è un tema che io nel mio piccolo Ne parlo da 30 anni prima come giornalista Oggi come presidente di Lega Pro Ed è un tema che probabilmente non abbiamo ancora risolto Se è vero che la media degli impianti Nel mondo professionistico Supera i 60 anni di vita Nessun paese europeo è rimasto così indietro Dal punto di vista dell'impiantistica Lo spirito di questo incontro è appunto quello Far capire un po' alla comunità Che c'è il calcio, c'è il pallone C'è il famoso rettangolo verde Però c'è anche tanto altro Un club è parte integrante Un club sportivo calcistico in questo caso È parte integrante del tessuto cittadino Per cui l'incontro di oggi ci aiuta a promuovere A far capire quanto sia importante il dialogo Inserirsi nel tessuto cittadino E quante cose si possono fare in collaborazione Tra un club calcistico e la città che rappresenta il club Abbiamo cercato di portare avanti una politica Che partisse dal basso Quindi dalla costruzione delle infrastrutture Dal management giusto Dal settore giovanili Per poi arrivare in prima squadra Perché il nostro convincimento è che Se si vuole avere successo di lungo periodo nel calcio Bisogna partire, come tutte le cose Del resto, bisogna partire dalle fondamenta Dal basso, insomma, per costruire progetti di lungo periodo E non essere solo delle chimere E dallo sport professionistico a quello amatoriale Scalda già i motori La rassegna Pesaro Challenge In vista della sua edizione 2024 Nell'anno di Capitale della Cultura Anche Pesaro Challenge Alza l'asticella giocando d'anticipo Nella valorizzazione della Kermess Che da quattro anni esalta la pratica Della cultura sportiva Soprattutto per i più giovani Pesaro Challenge Che tornerà nella zona mare di Pesaro Per tre giorni Il 30, 31 agosto e 1 settembre Ma che con quattro mesi d'anticipo Ha già presentato in comune alcune novità È una manifestazione sportiva Che vuole essere una vetrina dello sport Per la promozione e la dimostrazione dello sport In un periodo che anticipa ovviamente Le iscrizioni per l'anno sportivo 2024-2025 Questo mette, questo lavoro è un lavoro in rete Perché mette in rete tante società Tante realtà sportive Discipline diverse Ma non solo Anche gli sponsor degli espositori Che credono nello sport Come stile di vita E al benessere Che genera ovviamente lo sport E quindi ci supportano Per fare questa iniziativa Fra le novità di rilievo L'arrivo della Challenge Card Abbiamo voluto anticipare i tempi Rispetto ai tempi tradizionali Per presentare l'evento Proprio per dare possibilità Alle società sportive Di lavorare sull'obiettivo Che è quello di aumentare I contatti durante la manifestazione La Challenge Card È l'idea con la quale Raccogliere i contatti Per poter poi utilizzarli Al momento in cui si torna a fare sport In palestra L'obiettivo è stimolare lo sport Dare la possibilità agli sponsor Di avere la massima visibilità E soprattutto a tutti i cittadini A tutti i visitatori della manifestazione Di provare tante discipline sportive In quei tre giorni Che saranno tre giorni di Open Day A cielo aperto Challenge Card servirà per girare Nelle varie postazioni Raccogliere ovviamente le prove fatte E alla fine sarà premiata con un gadget Un piccolo ricordo dell'evento Per ricordarsi che mettersi in gioco Molte volte premia Poi sarà spendibile anche in attività commerciali Che stanno contattando Per aderire a questa nuova iniziativa E concludiamo con la musica I testi immortali di Fabrizio De Andrè In uno spettacolo che si terrà questo weekend Al teatro Cinemastra di Pesaro De Andrea è uno spettacolo musicale In cui verranno eseguite le canzoni di Fabrizio De Andrè Riarrangiate in chiave più sperimentale elettronica Quello che abbiamo fatto è appunto Riarrangiare i brani di De Andrè Con un altro sound Mantenendo testi e armonie Cambiando totalmente le atmosfere sonore Presenteremo questo concerto Il 4 e il 5 maggio Al Cinemastra di Pesaro Dalle 21 Con me sul palco ci saranno Pedro Megna Peraza Che farà le percussioni e chitarra Edoardo Martinelli Basso e chitarra Francesco Verardi alla tastiera Ed Enrico Greenwood Che si occuperà del suono in generale Quindi ci farà sia da tecnico Sia mi ha dato una mano Negli arrangiamenti La particolarità di questo spettacolo E la fusione tra Il mondo della musica elettronica Arrangiamenti pre-registrati in studio E live music Quindi quello che gli strumentisti Suoneranno durante gli spettacoli Oltre alla musica Ci saranno anche momenti di poesia e teatro A cura di Diego Bulzoni Che farà tutta la parte della narrazione E appunto curerà questi momenti Di intermezzo fra la musica Quando abbiamo pensato a De Andrè Ci è venuto in mente Che indubbiamente Si è trattato anche di un poeta Ci ha dato prova nei suoi testi E quindi abbiamo avuto questa idea Di unire alcune forme di teatro Di poesia a questo spettacolo Per donare anche un che di novità Ne approfitto per dire Che questo sarà il primo spettacolo Presentato dalla nostra nuova associazione culturale Il cui nome è Aural Potete contattarci al 379-2199-992 Oppure su Instagram, Facebook Sottonome Aural Frequency Si conclude qui questa nostra edizione Delle telegiornale Rossini News Prima di salutarci vi ricordiamo La nostra prima serata Che come ogni martedì È dedicata alla politica Con il nostro format Amministrando Che ci avvicina alle elezioni Dell'8 e 9 giugno Questa sera negli studi Del nostro Luigi Benelli Si parlerà di elezioni europee Con due candidati In merito a questa tornata elettorale Ovvero Alessia Morani Candidata all'Europe per il Partito Democratico E Carlo Ciccioli Candidato invece per Fratelli d'Italia Appuntamento alle 21.20 Vi ricordo che domani Primo maggio Festa di lavoratori Non ci sarà Rossini News Ci sarà però L'informazione di Buongiorno Rossini La nostra rassegna stampa Dei quotidiani locali Come sempre in diretta Dalle 7.20 Rassegna stampa del primo maggio Che sarà condotta Dal nostro Paolo Pagnini Ed è invece tutto Per questa sera Per quello che riguarda L'informazione di Rossini News Vi ringrazio per averci seguito E vi auguro una buona serata E un buon primo maggio In compagnia dei nostri programmi Grazie a tutti